Benvenuti a Camera di Commercio News. La Camera di Commercio di Torino e il suo laboratorio chimico lanciano un portale digitale nazionale sull'etichettatura e la sicurezza alimentare realizzato in collaborazione con Union Camera e molti altri enti camerali. Sentiamo il servizio. Il portale dell'etichettatura offre alle imprese agroalimentari italiane un servizio di primo orientamento ed informazione, aiutandole ad assolvere gli obblighi di legge, anche grazie alle FAQ e alle indicazioni sui prodotti tipici. Le aziende che si registrano al portale possono utilizzare la funzionalità Crea la tua etichetta che consente di esercitarsi con un modello predefinito. L'impresa deve scrivere le indicazioni così come richiesto dalla normativa e riportare ad esempio ingredienti, data di scadenza, lotto, dichiarazione nutrizionale. Il FAQ simile può essere inoltrato allo sportello etichettatura per richiedere un commento. L'impresa torinese che inoltre un'etichetta o richiede un quesito al portale può ottenere gratuitamente il servizio. Il portale nasce dall'esperienza maturata attraverso lo sportello etichettatura e sicurezza alimentare sorto oltre dieci anni fa proprio presso il Laboratorio Chimico Torinese e che nel 2019 ha seguito 400 quesiti per oltre 200 imprese. È tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.